Sì, la signora del messa insomma... Titti! La facciamo lo stesso noi però, ok. Si chiama Titti e fa axè. Ale che si parte! Sì, la signora del messa insomma... L'articinicario, Banda Reversas... Sì... Don Maurizio Cranmento... Sì... Ha! Ha! Sì... 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 Grazie! Ma che bello! Noi ci vediamo eh! Sì... Sì... Sì...